Nato guerriero Avrei voluto essere mille uomini Ridotto in schiavitù Per Madonna, è meglio che la dimentichi Risorto Gladiatore Nessuno mi impedirà di tornare fra le tue braccia La sua vendetta Piegherà Roma Uccidili tutti La serie tv oltre ogni limite Spartacus Non esiste una vita senza di te Da giovedì 17 febbraio Solo su Sky 1 Grazie